Salve figliolo, mi sono perso, vorremmo sapere, la strada della chiesa ero convinto che fosse da quella parte, invece ho fatto tre volte il giro e non riesco a... No padre, non ci vuole niente, allora scendi giù di qua, sta questo viottolo, la chiesa è lì, non ci vuole niente. Sì vedi anche un po' il campanile, è facile, grazie, grazie. Prego, prego padre. Ah fratello, perché non vieni a trovarmi in chiesa, a contamogli, bambini, tutti quanti? Siamo un po' insieme. E io e la mia famiglia dobbiamo venire in chiesa. Sì venite, stiamo bene, è una cosa bellissima, siamo tutti quanti insieme. E perché? E così niente, vi posso anche spiegare la strada per il paradiso. Ah, ci devi spiegare qual è la strada per il paradiso. Sì, sì, è bello, perché non vieni? Come tu gli spiegare la strada per il paradiso? Non sai nemmeno dove sarà qui, è un po' piacere, pa.